Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi commentiamo una partita giocata tra Karsen e Nepo della tappa Judas Berre del Champions Chess Tour. Torneo ormai famosissimo che si gioca online su chess.com in cui giocano i migliori giocatori al mondo. Fatto curioso, Nepo ha giocato questo torneo subito dopo aver finito la partita del torneo Gashimov, giocata in presenza, in cui in questo momento è primo. Cioè quindi lui ha finito la partita in presenza, è stato in camera in hotelle per collegarsi e sfidare Karsen. Veramente un fatto molto curioso, aveva finito tipo proprio 5 minuti prima di cominciare la partita con Karsen. Fantastico. Ma vediamo subito perché la tappa, questo match è stato vinto da Karsen, ma sul fio del rasoio. Quattro patte, una sola vittoria, vi porto nel canale la vittoria perché è la partita chiaramente più appassionante e avvincente. Se non l'avete fatto vi invito a essere qui nel YouTube cliccando qui sotto, attivare la campanella, lasciare un like, insomma supportate il caso di chi sta matto così porterò sempre più video. E cominciamo subito, C4, E5, apertura inglese che ho già commentato, vi lascio qui sopra il video apertura inglese in 10 minuti, così potete comprendere i principali piani di questa apertura, molto solida, posizionale, assolutamente giocabile a qualsiasi livello. Cavallo in C3, cavallo F6, cavallo in F3, cavallo in C6. Vi faccio notare che qui se il nero giocasse D5 e, ok, prima dove chiaramente difendere il pedone, il pedone E5 e poi com'è andata, quindi lo vediamo subito, E3, D5, vi faccio notare che è come se fosse una siciliana a colori invertiti. Se per un attimo immaginate che i pezzi del nero sono bianchi e i pezzi del bianchi sono neri, vedete che è una siciliana, E4, C5, cavallo F3, cavallo C6, D4 e così via. Quindi l'inglese giocando con E5 si trasforma in siciliana a colori invertiti. Qual è ovviamente la differenza? È che il bianco ha un tempo in più, quindi ovviamente c'è qualche differenza, ma si può assolutamente giocare in questa maniera, anzi è la maniera più attiva per combattere l'inglese. Alfiere B5, cavallo per C3, peone per, alfiere in D6. L'alfiere B5 inchioda il cavallo e dunque il peone D5 era in presa e perciò viene difeso dall'alfiere in D6. D4 in modo tale subito da attaccare al centro, quindi Nepo vuole mettere un altro peone al centro e quindi avere un vantaggio al centro. Donna in F6 da parte di Karzen, D5 attaccando il cavallo che sembrerebbe perso perché inchiodato non si può muovere, ma Karzen aveva pensato a questo, gioca A6 per attaccare l'alfiere. Su alfiere A4 avrebbe giocato B5, ma invece alfiere in E2 e quindi il cavallo torna indietro. Una mossa che apparentemente può sembrare strana, però vi invito a ragionare e pensare secondo voi qual è la migliore casa nella scacchiera per questo cavallo. Se ci ragionate un attimo, se volete mettete pure pausa il video, la risposta è quasi sicuramente C5. Infatti questa casa C5 dopo la spinta in D5 diventa una casa debole, quindi nessun pedone del bianco può controllarla ed è questa lì a di Karzen, quella di portare questo cavallo in G5 in un'ottima casa. Da C5 poi potrebbe anche cercare di andare in D3 o comunque inizia a controllare tante case nello schieramento nemico, quindi un'ottima strategia da parte di Karzen. Cavallo D7, C4, arrocco, alfiere B2 ed ecco qui cavallo C5. Cavallo in D2, donne in G6, Re H1, alfiere F5. Qui vado veloce perché la posizione è abbastanza pari, non vi sono grandi elementi. Vi faccio notare che alfiere F5 e donne in G6 hanno come obiettivo quella di evitare la spinta in E4, però dopo torre C1, B6, F3, Nepo a tutti i costi vuole giocare 4 ed è corretto perché senza giocare 4 poi il neo potrebbe approfittare per conquistare questa casa in D3. Quindi F3 con E4 e allora l'alfiere si ritira E4, F5 attaccando quindi il pedone in E4 cercando anche di aprire la colonna F, F4 da parte di Nepo e qui torre in E8. Forse non la migliore, poteva continuare la partita con F per E4 per esempio. L'idea che dopo F per E5 ci sono diversi cambi, è un po' anche complicata, quindi essendo comunque una partita blitz ci sta che Carlsen ha giocato Torre in E8 subito. Qua il nero deve ritirare l'alfiere, però la posizione sembra assolutamente giocabile anche per il nero. Questi due pedoni sono molto minacciosi, sono anche molto avanzati, però anche Carlsen ha questo po' in E4 molto interessante. Poi potrebbe andare un croll in D3, si potrebbe minacciare anche E3, ideacro alle 4. Insomma, qui la partita è assolutamente giocabile. Torre in E8 è stata giocata, non è comunque un gravissimo errore, però consente al bianco di prendere la qualità. Non penso, sto parlando di Carlsen, quindi non penso proprio che sia una svista, ma immagino, anzi sono abbastanza sicuro, che è un sareificio. E non è il primo, perché Carlsen sareifica due torri. Questo è il primo, alfiere H5, quindi infilata regina e torre, donna H6, cade la prima torre, torre per E8, e dopo F per E5, secondo sareificio di torre da parte di Magnus Carlsen, che non cattura di alfiere, perché no? Perché valuta l'attacco della regina sul re positivamente, e quindi, secondo Carlsen, è meglio avere in questa posizione l'alfiere in gioco, piuttosto che la torre. Dunque, torre per E5. Nepo non interessa, cattura tutto, alfiere per, alfiere per, e attenzione qui, perché Nepo ha un vantaggio netto di materiale, due torri per due pezzi leggeri. Quindi, se contiamo anche il valore relativo, alfiere e cavallo valgono 3 più 3, 6, le torri valgono 5, 5, 10, sono 4 punti in più per Nepo. Però, effettivamente, l'attacco c'è. Innanzitutto, si minaccia a matto in una, quindi già Nepo deve difendere il matto, e infatti gioca qua all'F3. Però, effettivamente, sono 1, 2, 3, 4 pezzi, che, se riescono tutti ad attaccare verso il re bianco, si potrebbe creare una situazione interessante. Ed è come è andata la partita. Vediamo, alfiere F4, attaccando la torre in C1, E5, quindi già notiamo che Nepo si rende conto che questo alfiere è molto minaccioso, e quindi provisce lasciare la torre in presa, ma Karzen non accetta. Quindi Karzen ritiene che questo alfiere valga di più in questa esatta posizione della torre in C1, e dunque gioca a cavalline 4. Sta utilizzando una strategia efficace, giocata da praticamente tutti i grandi maestri del passato, quella di portare più pezzi possibili in attacco. E infatti il cavallo, in questo momento, è in un'ottima casa, ma non sta attaccando il re in H1, quindi cavallo 4, in modo tale da avvicinarsi sempre di più al re bianco. Poi mancherà solo l'alfiere, e tutti i pezzi del nero staranno attaccando. Da notare che il bianco difende solo con il cavallo. La torre praticamente lo sta difendendo, e la regina della torre è suonato di donna. Ecco perché l'attacco, soprattutto essendo una partita blitz, quindi Nepo non ha il tempo di riflettere, di analizzare tutte le mosse, ma deve giocare velocemente, questo attacco si rivela, dal punto di vista pratico, vincente o comunque giocabile. Donne 1 è infatti il grave errore. Dopo Donne 1, già qui la partita, almeno a gioco corretto, è ritenuta vinta per il nero. Cosa avrebbe dovuto giocare Nepo, torre in c2. Torre in c2 in modo tale da difendere la seconda traversa, e per esempio su cavallo g3 giocare re g1, dare la torre senza problemi, e cercare un po' di semplificare la situazione. Invece su Donne 1, cavallo in g3, re in g1, attenzione qui perché dopo cavallo per torre, non è semplice come la posizione di prima con la torre in c2, perché se... Qui il bianco non l'ha catturato, qui Nepo ha giocato e6. Vi faccio vedere che poteva succedere su Donne 1 per f1. Ok, già semplicemente Alfiere per torre dà un pezzo di vantaggio al nero, quindi in realtà mi posso fermare qui con la variante, non vi tedio ulteriormente, perché chiaramente poi con un finale con pezzo in più, e beh, vai a sconfiggere Magnus Carlsen. Quindi qua, semplicemente la differenza appunto rispetto a prima è che la torre non è più sotto attacco. E6 viene giocata da Nepo, quindi il pedone giustamente viene avanzato, è un pedone super passato, però non succede niente. Alfiere ne è 8, torre in c3, si salva la torre, ma attenzione qui, perché cavallo per h2, torre in a3, gioca Nepo, alfiere d6, attaccando la torre, ma soprattutto minaccia un'altra mossa che Nepo ha completamente mancato, anche se qui penso la partita sia persa, anzi, senza penso, è sicuramente persa. Qui trovare mossa di difesa è solamente difficile, ma in realtà quella è la vera minaccia di carcere, non è alfiere per torre, è alfiere c5 scacco. Infatti, dopo alfiere c5 scacco, il re deve tornare in h1 sotto la mira della regina nera. Come difende, forse unica e muove il primo regino, tale da dare una casa di fuga al re, però, vabbè, si può muovere questo cavallo, immagino cavallo g4 per esempio, ma anche alfiere c5 scacco, prima regge 2, cavallo g4, e poi si minaccia cavalline 3, qui l'attacco continua. Effettivamente, dopo cavallo e3, il bianco non ha mossa, perché se il re si muove, c'è quello c2 scacco, e quindi su cavallo e3 deve per forza catturare, e anche qua, siamo nuovamente, punto a capo, come prima, il kartz ne rimarrebbe con un pezzo netto di vantaggio. E dunque, come è data la partita, torre per a6, f5 scacco, e Nepo abbandona, perché abbandona, perché segue il matto, re h1, cavallo per cavallo, scacco di scoperta, è matto praticamente, deve fare un h4, e poi vabbè, si cattura. Quindi, bellissima, vittoria, del ex campione del mondo, Magnus Karzen, contro un Nepo, anche abbastanza stanco, quindi comunque, ha resistito fino alla quinta partita, è già, un successo, perché Nepo, vi ricordo, sta giocando, in contemporaneo, un altro torneo, fantastico. Quindi, Karzen si impone, contro un Nepo, e avanza, e ai, oh non mi ricordo, se quarti di finale, o semifinale, dovrei andare a controllare, ma lo seguiremo, nelle prossime puntate, quindi vi invito a iscrivervi, e quindi avanza, nella tappa, Jules Bear, Generation Cup, del Champions Chess Tour, vi lascio qui, in soluzione, nel video, sull'apertura inglese, e se vi piace il video, vi chiedo di lasciare un like, e commentare, per qualsiasi, opinione, domanda, dubbio, ci vediamo alla prossima, ciao!